Violenze sessuali, rapina e lesioni personali, questa è l'ipotesi di reato che hanno portato all'arresto di un 27enne di Villa di Tirano da parte dei carabinieri della Compagnia di Tirano. I militari dell'arma, agli ordini del capitano Luca Rossi, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Sondrio. I fatti contestati sono avvenuti nel pomeriggio di giovedì 25 agosto, lungo il centro Valtellina, nel comune di Villa. Due donne, in tempi diversi, e mentre stavano pedalando lungo la pista ciclabile, sono state avvicinate da un uomo in sella a una bicicletta che ha tentato un approccio eccessivo e insistente. Nonostante le due vittime abbiano tentato di allontanarsi, lui è riuscito a palpeggiarle in diversi punti del corpo, nel tentativo di avere un rapporto sessuale, cosa che fortunatamente non si è verificata grazie alla rapida reazione delle due donne. Una è stata fatta cadere dalla bicicletta, ha riportato alcune lesioni non gravi, prima di riuscire a fuggire, mentre l'altra, durante la violenza e poco prima di riuscire a scappare, è stata rapinata della borsetta all'interno di effetti personali. Nell'immediatezza non sono state allertate le forze dell'ordine, le due donne si sono presentate in serata, e il giorno dopo alla stazione Carabinieri di Tirano per spoggere denuncia, consentendo di dar così avvio le indagini. I militari dell'arma si sono subito attivati per risalire all'identità dell'uomo. Grazie alla descrizione fornita, la grande conoscenza del territorio, hanno potuto restringere la cerchia dei sospettati. Si è giunti in tempi strettissimi alla identificazione del presunto aggressore, un 27enne già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti. Trasmessi gli esiti delle indagini, alla procura i Carabinieri hanno costantemente sorvegliato e pedinato l'uomo per evitare che potesse mettere in atto altre aggressioni. Nel frattempo il pubblico ministero titolare del fascicolo ha richiesto al giudice per indagini preliminari l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento firmato nella giornata di ieri è subito eseguito dai Carabinieri della stazione di Tirano con il supporto dei colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia. Il 27enne è stato quindi portato nella carcere di Via Caimi a disposizione dell'autorità giudiziaria.